La vertenza sindacale che investe la DEMA CAMDAR, azienda del settore aerostrutturale di velivoli civili, che in campagna vede a rischio licenziamento circa 750 lavoratori. Dopo l'emergenza Covid è ripreso il confronto tra aziende e sindacati per trovare una via negoziale allo stato di crisi. Nel Sannio, a Paolisi, la camma SRL conta 170 dipendenti attualmente in CICS e in atto una procedura di licenziamento per l'intero organico lavorativo sospesa a causa delle normative Covid. Una situazione incandescente e che subito presenta il conto delle conseguenze che la crisi economica post-emergenziale pone all'attenzione già da ora. FIMCISL, FIOMCGL e WilmNazionali hanno chiesto un confronto col governo per cercare una soluzione del problema, coinvolgendo la regione campania che, attraverso l'assessore regionale al lavoro Palmieri, ha partecipato in videoconferenza all'incontro col ministro del lavoro Catalfo. L'esigenza è quella di riaprire subito un canale di dialogo tra IMSS, management di DEMA e sindacati, dice la Palmieri, al fine di costruire un percorso capace di scongiurare il falimento del piano industriale e salvare l'occupazione. Il governo sta cercando dal canto suo di indurre l'INPS ad una rateizzazione del debito, INPS che ritiene irricevibile la proposta dell'azienda perché non rispettosa della normativa in vigore. Una via d'uscita potrebbe essere però una modifica al decreto rilancio, vertenza che si prospetta lunga. La trattativa, infatti, è soltanto agli inizi. Inizio